Aspetta che non ho ancora iniziato, che bravo! Tenterò io una cosa che mai nessuno è riuscito a fare. Ho delle visioni! Ho delle visioni, chi sono? Poi ferma, c'era questo! Io mi sento aspettato. E allora quando uno si sente aspettato ha la responsabilità di dire cose incredibili. Ma quali vorraci sti piranha? Guardate che vorracità che hanno. E a confronto abbiamo degli assessori che spolpano città. Vai e fai il colpo, il colpaccio. Fa schifo il festival! Fa schifo! Ma guardate che gente! Guardate! Ottore di televisione negli occhi così!